Nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza Covid, la Regione Campania ha deciso di adottare, per la presentazione al Ministero della Salute che deve approvarlo, il piano regionale di riorganizzazione e potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. Nel documento vi è riportata l'articolazione dei posti letto di terapia intensiva, il piano dei costi con la descrizione degli interventi previsti nelle strutture ospedaliere, i pronto soccorso oggetto di ristrutturazione, gli interventi previsti per l'implementazione dei mezzi da dedicare ai trasferimenti secondari tra strutture Covid, alle dimissioni protette, ai trasporti interospedalieri no Covid. Novità per il Luigi Curto di Polla, a cui sono stati confermati gli otto posti di terapia intensiva, ai quali ne sono stati aggiunti quattro di terapia semi-intensiva. Nella struttura sono inoltre previsti interventi di rifunzionalizzazione con schermature anti-Covid, integrazione degli impianti gas medicali, modifiche installazioni di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa per oltre 390 mila euro e l'acquisto di attrezzature per oltre 33 mila euro. Polla, nella riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Campania per emergenza Covid, viene classificata come struttura base e nell'ambito dell'ASL Salerno è in compagnia dell'ospedale di Sapri, Oliveto Citre, Villa Malta di Sarno. Dea di primo livello invece Scarlato di Scafati, Umberto I di Nocere Inferiore, Eboli Battipaglia Rocca d'Aspide, Vallo della Lucania e Agropoli.